Allora, chiudiamo l'anno parlando di cinema, lo facciamo assieme ad Alan Biezoli che è tornato a trovarci, grazie Alan per essere venuto anche con una short notice come spesso succede. Allora diciamo subito, ieri è stato presentato in anteprima per la stampa il ragazzo invisibile seconda generazione, quindi seconda parte del ragazzo invisibile che te ne è parso partiamo subito. Ma allora molto così così secondo me è abbastanza in linea con il primo film che già di suo non era un gran film secondo me nel senso che si vedono i limiti di un regista come Salvatore che ha dichiarato, queste sono proprio dichiarazioni sue, sono uscite un paio di, forse la scorsa settimana visto che il film poi era già stato presentato a Roma credo per la stampa lui ha dichiarato io non ho mai visto un film di supereroi e quindi se tu fai un film di supereroi senza aver mai visto un film di supereroi anche perché diciamo non hai, cioè più che altro non hai il polso di quello che sta succedendo intorno a te secondo me. Sì anche perché diciamo la trama ha molto a che fare con X-Men, cioè questa idea appunto dei supereroi sfruttati che per vendicarsi poi andrebbero a distruggere anche chi non c'entra, cioè siamo là, non è... Esatto, sì ma ripeto, proprio un... proprio anche come modo di condurre di condurre la cosa ne parlavamo proprio ieri è un film rivolto ai giovani che ha un utilizzo massiccio di musica classica usata abbondantemente e male quindi veramente non si capisce Ma non credo che tu, sempre discutevamo ieri che manchi anche un attore come dire perché non c'è non c'è Valeria Ugolino che però è poco l'antagonista è Xenia Rappaport che insomma non so se ci fosse stato un attore di quelli anche che vanno un po' dappertutto Indubbiamente, sì sì Nella parte del medico, del dottor K poteva farlo Jeremy Irons piuttosto che Depardieu Esatto, no, no, chiaro esatto, sì 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 sicuramente avrebbe dato comunque un taglio un po' più internazionale al film probabilmente, sì ne avrebbe giovato da un certo punto di vista secondo me non avrebbe fatto miracoli Sì, no, questa però stiamo a vedere anche poi perché mi pare che il primo al botteghino è andato relativamente bene No, no, quello sicuramente quello che sono... adesso al botteghino effettivamente e non ricordo esattamente quello che so è che effettivamente in Europa ha vinto molti premi nei vari festival in cui è stato presentato di solito festival per ragazzi o comunque rassegne di proiezioni per ragazzi e ha ricevuto molto consenso da quel punto di vista visto che comunque l'impianto narrativo è abbastanza simile al primo mi aspetto esatto un successo dello stesso tipo i film italiani di... adesso i film italiani di Natale, no? ormai il cine panettone, quello tradizionale è entrato in crisi addirittura è scomparso dai radar perché fondamentalmente sì, abbastanza poi anche esperimenti come quello di mettere insieme i vari... super vacanze di Natale a parte che affidarlo a uno come Paolo Ruffini è già questo esatto ma giustamente Christian De Sica secondo me non senza una certa come dire una certa malvagità e vabbè ma c'è uno perché deve andare al cinema a vedere una cosa che su YouTube esatto li ha... ma infatti credo che questo sia veramente il miglior commento che si poteva fare appunto al di là di questo però tu hai visto quelli che insomma sono gli eredi virgolette dei cine panettone no, ammetto che quest'anno per una serie di motivi non sono riuscito a vederli avevo fatto l'anno scorso una cosa molto scientifica in cui le avevo visto proprio tutti uno per uno proprio per poter giudicare quest'anno ripeto non sono riuscito e cosa dire allora da un lato è vero che certi film non andrebbero più fatti per esempio io penso al film di Boldi che se questo nuovo è come quello dell'anno scorso e guardando un po' i trailer immagino di sì veramente Boldi tu sei molto preoccupato della mobilità di Boldi io sono molto preoccupato della mobilità di Boldi sì esatto io lo dico è dall'anno scorso che lo dico anzi forse ancora da prima Boldi non si muove più è rigido ovviamente lo muovono lo portano sul set con un muletto lo appoggiano là e poi lo fanno recitare quindi quello veramente è il film messo lì apposta per riempire lo spazio perché si è sempre fatto allora bisogna continuare a farlo io mi ricordo l'anno scorso che Poveri Maricchi era decisamente un buon film era una commedia di quel tipo lì insomma di quello stampo lì però per essere quel tipo di film lì era veramente un ottimo film chi l'ha visto mi ha detto che questo secondo capitolo non era esattamente a livello del primo tu pensi che tutto questo caos Brizi eccetera possa averlo in qualche modo danneggiato o paradossalmente possa averlo favorito è una buona domanda io temo che l'abbia favorito temo in realtà non so se il termine è giusto cioè nel senso credo che da un certo punto di vista l'abbia favorito appunto temo dall'altra parte che la gente sia andata a vederlo si sia reso conto che comunque non era un bel film al di là del fatto che fosse di Brizi o non di Brizi e poi dal passaparola è venuto fuori che non è un argomento così eccetera allora la prossima settimana esce in esce nelle sale perché è perché so dove andare a parlare esce nelle sale tutti i soldi del mondo che tra l'altro secondo me è il titolo esatto perché suona meglio tutto il denaro del mondo sarebbe più elegante sì esatto tutti i soldi del mondo è brutto come titolo in inglese rende meglio all the money in the world ma tutti i soldi del mondo mi pare un po' in ogni caso voi sapete che questo film è stato girato credo lo scorso anno insomma così con Kevin Spacey nella parte di John Paul Getty bravo sì senior secondo una come dire un modo di fare tipico di certo cinema americano per fare un un ultra ottantenne non si chiamano attori ultra ottantenni si chiama un attore più giovane lo si copre di trucco esatto eccetera e lo si trasforma in questo caso in una via di mezzo tra un troll Pippo Baudo e mi dicevano anche e altri personaggi simili esce c'è questo scandalo che coinvolge Kevin Spacey e il regista Ridley Scott decide di rigirare le scene con Kevin Spacey che è una partecipazione straordinaria quindi non il grosso del film chiamando Christopher Plummer che sarebbe stata la scelta iniziale se non fosse che i produttori hanno detto no c'è bisogno di qualcuno che richiami più gente al botteghino ora io qua veramente non so come giudicare una cosa del genere se è una scelta astuta che credo sia così se non so non riesco a dare un'idea è una buona domanda effettivamente anche io ho difficoltà a capire esattamente cosa ci sia dietro e capire una cosa che bene o male è strana quest'idea che per film dove la post-produzione dura mesi se non addirittura anni poi in fin dei conti in una settimana si è fatto tutto io non lo so non so cosa pensare no effettivamente è una buona domanda sicuramente il fatto appunto Ridley Scott ha sempre detto che Christopher Plummer era la sua prima scelta da un certo punto di vista appunto viene da chiedersi come è possibile che un regista come Ridley Scott che ha un nome non possa sia riuscito a imporsi ma soprattutto se non altro a imporre io posso capire che i produttori abbiano voluto qualcuno di più famoso ma davvero non c'era un ottantenne più famoso di Christopher Plummer o che comunque potesse essere un nome che poteva andare bene ai produttori che Anthony Hopkins esatto voglio dire insomma credo che di nomi ce ne fossero prima di chiamare Spessy e spendere dei soldi per fargli fare il trucco e tutto quanto io peraltro ieri ho visto i trailer del film e devo dire la verità che Christopher Plummer senza un'ombra di trucco è John Paul Gatty perché io ricordo le immagini di John quindi è una cosa assolutamente straordinaria però c'è anche questa idea appunto di questa d'amnazio memoria nei confronti di Kevin Spessy che adesso non so francamente nemmeno da quel punto di vista cosa pensare quello sì anche secondo me è terribile nel senso che Kevin Spessy può aver sbagliato se ha sbagliato è giusto che paghi però cominciare a cancellarlo dai film mi sembra veramente una cosa demenziale poi ripeto nel momento stesso in cui il film era finito sì 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 era pronto avrei capito che il film fosse stato appena cominciato allora si girano si rigirano due scene e via insomma è successo più volte nella storia del cinema si sa qualcosa è già uscito da qualche parte cioè si sa già ci sono già riscontri tipo se il film piace o non piace sai che non lo so credo di no non dovrebbe essere credo che non sia ancora uscito anche là miracolo nel miracolo la interpretazione di Christopher Plummer è candidata ai Golden Globe ah giusto vero quindi io mi domando come sia stato possibile farlo vedere esatto sarà stato proprio veramente in tempi record perché sì non so è tutto un po' strano nel senso che ha tutta una tempistica un po' strana tra l'altro quest'anno credo no Alan che alla notte degli Oscar che non mi pare abbia dei titoli francamente su cui ci si possa stracciare le vesti per un motivo o per l'altro confermo sì sarà interessante proprio per capire come affronteranno proprio il problema delle molestie e questo tipo di cose qua perché credo che ma infatti con gli amici la battuta che circola di più quelli che vanno a vedere tre film esatto quelli che vanno a vedere tre film con cui andiamo ai festival e tutto quanto e da un qualche mese gira la battuta che ormai sappiamo già che quest'anno l'Oscar lo vincerà Wonder Woman perché la regista è una regista donna che è sicuramente super parte se le male lingue per come si dice per compensare il fatto di un po' come era successo l'anno scorso siccome due anni fa si era detto che l'Oscar era so white quindi l'anno scorso i vincitori principali erano film o interpreti di colore e quest'anno sarà tutto c'è una cattiveria che gira in giro che per vincere un Oscar per come stanno andando le cose bisogna essere donna musulmana e anche chiedo scusa lesbica giustamente vince tutto per queste cose qua sarà curioso oppure si diceva anche che quest'anno Mary Strie vincerà anche come miglior attore perché per far tutto tutto il femminile daremo il Oscar molti l'hanno accusata anche di una certa ipocrisia per come ha gestito diciamo così in se stessa per quanto riguarda il caso Weinstein non so si però erano usciti dei cartelli delle cose tra l'altro quest'anno poi all'Oscar bisognerà vedere anche come riprenderanno e penso che riprenderanno in qualche modo la gaff dell'anno scorso probabilmente i Golden Globe si danno il 6 o il 7 il 7 il 7 il 7 gennaio quindi fra poco curiosità non c'è l'attribuzione del premio alla carriera ai Golden Globe secondo me perché hanno paura che una volta scelto il nome il giorno dopo salti fuori qualcuno che dice ha abusato esatto infatti la short list per il film straniero agli Oscar dove purtroppo non corre il film italiano è per me un peccato però ci dice insomma sono sempre più i paesi che una volta chi lì qua c'è un è vero sì 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 Cile vediamo Cile Sudafrica Libano Israele ogni tanto perché non abbia mai vinto e Senegal esatto ma anche l'Ungheria insomma non è proprio ha vinto però con il figlio di Saul sì è vero quella cosa era bruttissima ma si ok ci sto nel senso non era un così bel film secondo me però effettivamente al di là del figlio di Saul prima di prima del figlio di Saul anche l'Ungheria non era esattamente ma questo cosa ci dice che c'è un sì secondo me ci dice che le cose allora in realtà due secondo me sono le possibilità o le cose effettivamente si stanno un po' spostando e quindi effettivamente stanno venendo fuori delle cinematografie diverse da quelle a cui eravamo abituati o che quest'anno i paesi che normalmente siamo non c'è la Francia tra l'altro per fortuna no non c'è la Francia no perché la Francia portava 120 battiti che non è che non è stato messo figuriamoci se gli americani si spaventano di fronte a certe cose esatto va bene dicevo non c'è la Francia per fortuna perché la gara chi ha più Oscar come film straniero è sempre fra Italia e Francia sono quelli che hanno un po' più noi siamo i vantaggi però nemmeno stare attenti anche a questo no però probabilmente quest'anno le nazioni grosse mettiamola così non sono riuscite a portare film o film grossi o film che evidentemente hanno hanno convinto la si perché poi dobbiamo anche capire un po' che cosa si vuole da un film straniero perché questo si è sempre il grosso problema è un altro discorso anche capire come questi film stranieri vengono giudicati nel senso con che occhio con l'occhio di essere più vicini al cinema americano con l'occhio di esserne molto distanti con l'occhio di parlare del presente se ti ricordi no tu non puoi ricordarti perché eri bambino però quando uscì quel film che secondo me è molto bello che si chiama Macaroni con Marcello Mastroianni e Jack Lemmon tutti quanti dissero questo è fatto apposta per essere candidato come miglior film straniero non venne nemmeno candidato sicuramente quando il gioco è troppo aperto troppo smaccato questi anche sono un po' allora siamo quasi in chiuso ma oggi è andato veramente veloce faccio una domanda proprio anche cattiva nel senso in quest'anno è difficile non si può fare un bilancio sull'anno solare ma che insomma in genere si fa un bilancio sulla stagione ma comunque in quest'anno solare riesci ad individuare un film che ti è piaciuto più degli altri? beh come ogni anno si fanno le classifiche abbiamo fatto le classifiche anche io anche io l'ho fatta e ti dico i primi tre posti che secondo me sono i migliori film che sono passati in sala quest'anno quindi non necessariamente esatto e sono in ordine il primo il più bello secondo me è La tartaruga rossa film d'animazione collaborazione coproduzione tra l'Europa e lo studio Ghibli di Michel Dudok-Tewitt un regista europeo come secondo ho messo a pari merito considerandoli come se fosse un unico film i due smetto quando voglio che secondo me è il miglior esempio di cinema italiano dell'ultimo periodo e come terzo film è Split di M. Night Shyamalan che veramente mi ha sorpreso un regista che a me non piace anche a me non fa impazzire però in questo caso veramente e il più brutto e il più brutto io allora ce ne sono veramente tanti io ho messo quello in cui sono uscito dalla sala perché veramente secondo me era USS Indianapolis ah quei con Nicolas Cage ah va bene c'è un coreato giuro sembrava lo stavo guardando dal cinema mi sembrava di aver scaricato un film in cui non erano gli effetti speciali e le cose non erano finiti da tanto era brutto infatti vabbè se per far uscire dalla sala io potrei dire ma non lo dico però però ripeto ce ne sono veramente tanti già solo l'Oriente Express sì mamma mia allora Alan grazie per essere stato con noi grazie a te tanti auguri ai nostri telespettatori di Buonanno andate al cinema perché se il film vi piace va bene se non vi piace comunque avete la possibilità poi di discuterne ed è sempre bene discutere andate a vedere Cocco che è bellissimo mi hanno detto anche i tuoi sodali che ho visto che ho visto ieri alla proiezione di Napoli velata mi astengo da qualsiasi commento grazie ancora buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie.